Oggi manteniamo ancora una volta una promessa con gli italiani con questo Restitution Day che è l'ennesimo dopo tanti anni che il Movimento 5 Stelle fa praticamente tagliamo 2 milioni di euro in pochi mesi a tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle e li mettiamo in dotazione alla protezione civile per riparare ponti, strade, mettere in sicurezza centri urbani. Le tre regioni coinvolte sono la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia. Tre regioni colpite da eventi alluvionali, calamità naturali che hanno colpito arterie fondamentali. Ovviamente queste risorse saranno gestite con il canale della protezione civile attraverso i commissari delegati saranno destinate a realizzare in tre regioni interventi per un valore complessivo per ciascuna regione di circa 665 mila euro. In tutto sono 100 milioni di euro restituiti allo Stato dal Movimento 5 Stelle in tutti questi anni ma guardiamo adesso ad uno Stato che taglia gli sprechi della politica anche alle altre forze politiche. Al Senato è iniziata la discussione del taglio di 345 parlamentari della Repubblica che entro il 2019 dovrà essere legge. Portano un risparmio per i cittadini italiani di 300 mila euro al giorno. Per aprile di quest'anno il Senato della Repubblica approvi il taglio degli stipendi dei parlamentari italiani. Noi la settimana prossima intendiamo come Movimento 5 Stelle depositare la proposta di legge per il taglio di tutti, il taglio degli stipendi di tutti i parlamentari della Repubblica. Iniziamo a dimezzare l'indennità e quindi a dimezzare i 10 mila euro lordi e poi a livello di ufficio di presidenza dovremo lavorare anche alla rendicontazione puntuale dei rimborsi ma per noi è fondamentale che entro il mese di aprile la legge sul taglio degli stipendi dei parlamentari debba essere approvata almeno dal Senato della Repubblica così che poi manchi un'ultima approvazione quella della Camera perché non credo che ci sia molto da discutere sul taglio degli stipendi. Ci sia soltanto da approvare il prima possibile. Questo è un obiettivo che ci diamo come forza politica, ce lo diamo come obiettivo di governo e di maggioranza da cui non si può assolutamente prescindere.